ci ritroviamo in compagnia di roberto casalino ben trovato ciao ciao a tutti sono contento di poter fare questa chiacchierata con te per parlare di questo nuovo singolo l'ultima contento perché a fare da sfondo a questo brano c'è il dolore lo stesso che nella vita e nella musica tendiamo a volte un po nascondere in questa epoca votata al perfezionismo dove dobbiamo apparire sempre perfetti sui social come se non ce ne va mai male una no quindi sono contento quando si può parlare in qualche modo della sostanza delle riflessioni perché come il caso di questo pezzo ti rendi conto quasi di esserti liberato di un peso ragionando no per questo comincerei chiedendoti quali stati d'animo ti hanno accompagnato durante la stesura di questo pezzo allora guarda la canzone in realtà ha due momenti di vita in realtà le strofe la canzone è nata qualche anno fa come idea ed era un momento particolarmente buio ok per me quindi aveva un taglio molto molto incentrato sul dolore in realtà mi sono reso conto che al di là del fatto che sono c'è stata di mezzo la pandemia e quant'altro però in realtà all'interno sono rifiorito in modo molto veloce e quindi quando sono andato a riprendere la canzone che era comunque nella mia testa una canzone con cui volevo tornare come inedito dopo tanti anni ho detto sì però io non mi ritrovo totalmente in questa fase scura io mi sento rinascere quindi da lì ho buttato giù questo nuovo ritornello sulla spinta di dell'entusiasmo momentaneo di questo periodo che sto vivendo e quindi mi piaceva questa contrapposizione tra il lato un po' più scuro e intimista delle strofe e invece quello della speranza e della rinascita e anche una sorta di riflessione nel ritornello come per dire ma davvero non possiamo rinascere in fretta davvero ci deve importare del pezzo mancante no siamo noi a decidere il tempo siamo noi a decidere come e quando e quindi è mi ha dato questa sorta di positività di carica di positività e forse ragioni tu la pandemia c'ha quel momento di introspezione ci ha fatto vedere le cose forse da un lato da un altro lato e mi piace questa visione del non accanirsi nemmeno troppo né con se stessi né con l'altra persona perché a volte magari è solo una questione del famoso trovarsi nel momento sbagliato nel posto sbagliato no credi che riuscire a perdonare e a perdonarsi sia il primo passo verso questo tipo di consapevolezza assolutamente io sono ho imparato l'arte del perdono più che altro da un punto di vista egoistico cioè mi sono reso conto che se non perdono il torto subito quindi quella persona in qualche modo è come se io rimanesti sempre legato al passato invece perdonando l'altro accettandolo nei suoi anche nelle sue mancanze nelle sue debolezze nelle sue fragilità in realtà ti concedi l'opportunità di poter andare avanti e in qualche modo di chiudere definitivamente quel capitolo è chiaro che è un perdono volto appunto ad andare avanti non è detto non vuol dire però che tu accetti il male che ti è stato fatto quello chiaramente lo prendi ne fai tesoro lo immagazzini cerchi di capire no di leggere bene le istruzioni la prossima volta però in qualche modo portare rancore è soltanto un dispendio di energie e io da un po di anni a questa parte ho deciso che le energie vanno direzionate verso le cose importanti assolutamente sono assolutamente d'accordo con te ma prima che questa intervista la facciamo diventare una seduta di psicoanalisi sulle relazioni umane io andrei sulla parte sonora perché il brano unisce questa tua poetica come sempre ispirata e un po figlia della scuola cantautorale romana con sonorità contemporanee cariche di energia quasi volte a rimarcare la forza del messaggio che tipo di lavoro c'è stato dietro la ricerca del sound allora guarda c'è stato un lavoro molto meticoloso insieme a nicco verrienti che ha arrangiato il brano insieme a me e siamo stati nicco è un è un produttore un autore molto molto bravo e con lui mi trovo bene perché ci capiamo subito e anche se lavoriamo a distanza riusciamo ad essere proprio incentrati sulla ricerca del suono del semplice abbiamo lavorato per dirti per cinque giorni sulla scelta del rullante che tu dirai ok è la follia però in una canzone dove la ritmica è importante perché è sempre costante quella batteria è importante anche cioè come così come dato la giusta importanza alle parole devi dare la giusta importanza anche a tutta la base ritmica sotto e quindi c'è stata questa questo lavoro molto meticoloso anche di ritornare un pochettino a quelle che sono state anche le mie influenze musicali perché comunque sono cresciuto a roma nell'epoca d'oro della musica della del cantautorato romano quindi sai parliamo di sinigaglia e di zampaglione quindi tiro mancino parliamo anche di niccolò fabi insomma un abbiamo un bel territorio qui certo gazzè silvestri potremmo non finire più è gente che tuttora fa il suo percorso però sai fine anni 90 inizi 2000 c'era era c'era stata l'esplosione no oggi abbiamo franco 126 abbiamo car brave insomma gazzelle gazzelle ok quindi in realtà è stata fatta è stata fatta una scelta in funzione sempre del brano il brano l'ho firmato insieme alla mia amica silvia jagnello che è una giovane autrice fa altro nella vita ma completamente ama scrivere quindi ci siamo trovati allineati in questi giorni è girato il videoclip del singolo ti chiedo se puoi anticiparci qualcosa e soprattutto di raccontarci rido perché fa ridere l'episodio ho preso sui social di questo morso del ragno in qualche modo quindi raccontaci un attimino come è avvenuto questo episodio curioso e perché è la prima volta che mi capita di intervistare un ipotetico futuro spider man ecco esatto ma ci sono altri video altri video backstage che poi mostreremo quando il videoclip uscirà e sì allora guarda il video è stato girato un paio di settimane fa a lucca in uno studio diciamo è tutto al chiuso insomma è diretto da luca boni è la prima volta che lavoro con questo regista e con tutta la sua troupe che sono fantastici mi sono trovato bene mi sono sentito a mio agio sai poi sul set deve deve scattare anche quella scintilla di collaborazione anche perché la giornata è lunga fai tanti take tante riprese però ecco non voglio svelare nulla ma sarà un video molto molto significativo e in linea con la canzone non ci sarà una vera e propria storia incentrato su di me ma su una serie di immagini e di concetti importanti la questione del ragno eh in realtà io il morso l'ho avuto la notte in albergo ah ok non perché l'albergo fosse sporco figuriamoci cioè i ragni ci sono perché diciamo che al pronto soccorso mi hanno detto guarda anche il ragnetto più piccolo può farti questa cosa sei finito al pronto soccorso no sono andato sono andato a farmi vedere cioè no ti dico io la mattina mi sono svegliato che ho sentito un pizzico però da notte c'era una zanzara dico ok è la zanzara non non grattarti Roberto mi raccomando io sentivo questo pizzico proprio qui sotto vado a far colazione vado a fare trucco e parrucco a un certo punto sento un caldo tremendo qui no e faccio vicino agli altri ragazzi ma voi non avete caldo ma no no non fa caldo quindi mi spoglio per vestirmi per gli abiti di scena i primi abiti di scena e vedo praticamente una roba gigante e qui ero tutto rosso ho detto cavolo no allora non è la zanzara corri di corsa vatti a far vedere e ti dico no guarda no in realtà è un morso di un ragno metti subito ghiaccio e cortisone e lì ho pensato cavolo ma immagina se mi avesse morso in faccia io avrei saltato il video cioè guarda cose che capitano alla fine alla fine poi tutti ma non è che il ragno violino ragazzi se era il ragno violino io adesso non stavo qui a parlare con voi il ragno violino fa troppo ridere comunque simpatica parentesi lascerei un attimino il singolo per parlare per fare un passetto indietro perché noi ci siamo incontrati lo scorso febbraio a Sanremo abbiamo chiacchierato un po' tu eri lì in veste di autore del testo di tantissimo delle vibrazioni con la musica scritta da Nico Verrienti e da Francesco Sarcina lo stesso è anche da te ok lo stesso Sarcina più volte dichiarato a chi gli chiedeva come è nata la canzone di aver fatto una sorta di passetto indietro no nonostante lui fosse un cantautore non ha la smania di voler scrivere a tutti i costi anzi al contrario si affida al talento di altri quando magari lui in quel momento sente di aver qualcosa in meno da dire mi colpisce molto perché diciamo che non accade spesso in quest'epoca come è nata l'idea di questa canzone raccontaci un po' allora sì con Francesco c'è c'è stata subito una una sintonia già con dov'è no nel nel precedente Sanremo nel 2020 prima che scoppiasse la pandemia o comunque pandemia già iniziata perché poi alla fine l'abbiamo saputo dopo che già c'era con Francesco guarda c'era stata questa questo desiderio di ricollaborare quindi io ho buttato giù su una diciamo uno scheletro una base prodotta da Nico un'idea che c'eravamo detti un facciamo un brano a tempo voglio avevo buttato giù delle idee e confrontandomi con Francesco poi cosa è successo che io mi sono letto la sua biografia il suo libro il mezzo e ho trovato tantissime similitudini involontariamente con molti aspetti della mia vita personale quindi in quella canzone sono finite degli delle delle immagini e delle riflessioni che ci accomunavano in qualche modo anche se la canzone non è nata di pugno da Francesco Francesco poi si è allineato facilmente cioè è intervenuto nella parte della scrittura anche melodica eh perché ha sentito che il pezzo calzava esattamente su di lui e per me leggere quel libro è stato molto importante perché ho ho conosciuto un altro lato di Francesco aspetti della sua vita che non erano ancora stati rivelati e mi ha permesso anche di scrivere un testo molto più centrato su di lui e poi sia tantissimo che l'ultima partono da uno stato d'animo di sofferenza in netto contrasto con quelle che sono poi le sonorità app il risultato è qualcosa quasi di agrodolce che secondo me funziona soprattutto alla luce di quello che stiamo vivendo e del periodo che abbiamo vissuto perché la gente ha voglia di divertirsi ma magari non con banalità tu cosa ne pensi? Ma guarda io penso sai non riesco io penso sempre che ci sia no la cosiddetta musica leggera come hanno detto con la pesce di Martino e alla fine ci può essere ognuno di noi ha un proprio stile e io chiaramente non riesco proprio per natura ad essere totalmente leggero e quindi nel momento in cui scrivo è chiaro che devo ho bisogno di inserire sempre un certo tipo di contenuto io non non mi sto giocando l'estate con questo pezzo questo è un pezzo che desideravo fosse la prima canzone ad uscire di questo grande progetto e lungo progetto che porterà ad un album ehm per cui non me la non mi sono posto il problema dell'estate poi nel momento in cui i miei collaboratori l'hanno ascoltato anche l'ufficio stampa il mio manager però guarda che in realtà ha quel retrogusto come hai detto tu agrodolce mi piace che in realtà d'estate ci sta pure perché non è che è è pesante è una roba però che fa riflettere e dà questo senso di solarità nel ritornello e quindi ho detto vabbè dai magari involontariamente ho fatto un pezzo estivo a modo mio una canzone estiva perché io distingo faccio una distinzione tra tormentone e canzoni estive eh sono due cose secondo me diverse certo è vero è vero sì questo non è un tormentone ti rimane in testa ma è una canzone estiva esatto è una canzone estiva per concludere Roberto il prossimo 16 luglio sarà il protagonista del concerto evento il fabbricante di ricordi live al teatro spazio vitale di Nettuno in questi due anni suonare non è stato facile diciamo che qualche problemino c'è stato adesso con le capienze che sono tornate al cento per cento e con la macchina dei live che sembra ripartire eh nonostante le difficoltà del caso ti chiedo due cose da una parte cosa ti è più mancato della dimensione dal vivo e dall'altra se pensi che il pubblico abbia in qualche modo cambiato approccio nei confronti del live e della frizione della musica dal vivo allora guarda quello che mi è più mancato è sicuramente in modo molto molto banale il contatto con la gente ma in realtà anche l'adrenalina che provi e che sto provando in questo momento nel momento in cui metti in piedi uno spettacolo e questa adrenalina ti fa non dormire la notte perché io poi chiaramente non dormo eh però ti dà quel quel senso di anche di di sentirti utile nella tua vita sembra brutto dirlo però quando fai una cosa che sai che in qualche modo potrà in qualche modo colpire emozionare ti senti che hai un obiettivo anche a breve termine a breve medio termine quindi questa cosa mi è mancata proprio la non la non possibilità di progettare qualcosa ehm il pubblico ha bisogno del live io sto vedendo delle scene io il mio primo concerto post covid è stato dualipa la settimana scorsa a al Mediolanum ma ho visto filmati di di artisti emergenti e non con i palazzetti pieni e questo ti fa ben capire che la gente ha voglia magari di spendere i i loro soldi ehm per riappropriarsi di una libertà che è stata negata giustamente comunque non potevamo fare altrimenti poi è vero che magari potevano essere fatte delle scelte migliori ma lì non voglio entrare nel merito perché se io fossi al posto di qualsiasi politico probabilmente non avrei saputo che cosa fare cosa fosse la cosa migliore da fare per cui adesso speriamo che sia superato e e anche io quindi mi riapproprio di questa dimensione live partendo in grande perché poi l'evento del sedici luglio in questo teatro all'aperto a Nettuno è uno spazio con oltre novecento persone la capienza io porterò in scena quello che in qualche modo è la parte due del concerto all'auditorium del duemiladiciannove dove aveva avuto un grande eh corpo di ballo trenta ballerini quindi qui si si ritorna in una dimensione live molto grande quindi con dei performer eh capitanati da Luca di Nicola Antonio che fa da regista una band al completo ci saranno tante sorprese degli ospiti che annunceremo nei nelle prossime settimane quindi io invito tutti a venire a Nettuno il sedici di luglio i biglietti li trovate sia sul posto che su ciao tickets punto com quindi ci sarà è un concerto lunghissimo la scaletta guarda prima di iniziare l'intervista con te stavo cercando di capire come faccio a la mia la mia band ieri mi ha detto è bravo Roberto che scrive trenta brani ma in realtà sono duecentottantanove perché magari nello stesso brano ci sono venti medley e loro dicono sì però per noi sono duecentottantanove brani vabbè insomma ok ringrazio Roberto Casalino H Peter Parker per essere stato con noi ovviamente sei invitato eh io vi aspetto eh mi raccomando volente di solo sei in scaletta mi ci infili mi vuoi bene mi vuoi male che è un pezzo che secondo me non l'avevi calcolata quella di quel disco guarda ho messo un'altra canzone allora non lo so se vieni te l'accenno dai due secondi la vendo e non fa rabbia la faccio a cappella a cappella così la faccio così va bene va bene grazie Roberto buona estate e buona musica anche a te ciao grazie mille